bravi bravissimi siete dei geni gatti gatti dal gol al civile il sporting te lo ricordi in europa league forse marzo 2023 aprile no maggio niente niente allora allora io devo essere qua a fare la reaction perché giusto che giustamente devo farlo allora è dato che inizia l'autunno ragazzi cosa cosa può succedere la sconfitta della juve 4 a 2 col sassuolo ed è frel stava rischiando il 5 a 2 e sce se il signore e c'è apprezzo traversa meno male e gatti che devo fare scusa scusa se te lo dico ma non sei in grado di gestire una partita perché vabbè che era finita la partita non era 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 già persa 3 a 2 piramonti non ho visto il gol chiesa chiesa c'è fantastico chiesa è fantastico non parliamo di vlaovic domani usciranno le pagelle usciranno voti negativi per vlaovic per tutti però tanti giocatori usciranno voti negativi allora stanno giocando la cimonze andate a vederla se volete vanderla allora e che dire niente ragazzi e se la meritate sassuolo purtroppo la juve non so se l'ha lasciata ma questa non è la mentalità perché allegri te lo devi mettere in testa tu non avevi della champions da giocare tu potete tranquillamente organizzarti una settimana perché dalla vittoria con la lazio a perdere con il sassuolo mi pare una cosa strana che succede ma succede sempre perché la juve così ormai la juve sa tutti sanno come si gioca come gioca la juve e quindi non c'è niente da dire quindi ragazzi che dire io chiudo qui il video e spero che vi sia piaciuto ed agosto e monster gaming è bella scusate se non facciamo più video dalla play ma abbiamo qualche problema con lecce allegri se perdi se proprio nei guai